In Abruzzo infortuni al minimo storico. Sono 1.306 gli infortuni che si sono verificati nei campi abruzzesi nei primi dieci mesi del 2016 con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2015. Un dato che conferma un trend che negli ultimi cinque anni ha visto diminuire del 21% dal 2011 al 2015 il numero degli incidenti in agricoltura. I numeri sono emersi nel corso di un convegno Impresa Qualità Reddito, nuove norme sul lavoro agricolo che si è svolto all'Aquila. Un incontro promosso da Coldiretti in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla criminalità in agricoltura per fare il punto del lavoro non ai campi ma non solo dal punto di vista infortunistico e di sicurezza. Il convegno è stata anche l'occasione per approfondire le nuove norme contenute nella recentissima legge 199 2016 che disciplina e regolamenta il lavoro in agricoltura anche prevedendo pene più severe e rigorosi controlli in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e del realinamento retributivo nel settore agricolo. Una normativa complessa come è stato evidenziato nel corso del convegno ma anche un importante tassello nel percorso di trasparenza e legalità che deve essere alla base del lavoro dell'impresa agricola e che in Abruzzo ridisegna diritti e doveri per oltre 2500 aziende agricole assuntrici di mano d'opera anche extracomunitaria. In particolare nel corso dell'incontro è emerso come la nuova normativa rappresenti un primo importante passo avanti rispetto al passato ma dovrà trovare aggiustamenti per quanto riguarda una più equa proporzionalità delle pene previste per i vari reati tutti deprecabili ma con livelli diversi di gravità. Hanno affermato i relatori durante il convegno secondo col diretti Abruzzo pene severe e rigorosi controlli sono necessari perché l'illegalità determina una concorrenza sleale nei confronti delle aziende che lavorano onestamente ma è anche necessaria una grande azione di responsabilizzazione di tutta la filiera dal campo alla tavola per garantire che dietro a tutti gli alimenti italiani e stranieri ci sia un percorso di qualità che riguarda l'ambiente la salute e il lavoro con un'equa distribuzione del lavoro del bene alimentare che non penalizzi nell'impresa che lavora onestamente nei lavoratori.